Eccoci qua ragazzi, buongiorno, buonasera, insomma dipende da quando state guardando questo video, oggi si fa la prediction dei prossimi incontri principali, ovvero il 27 ottobre. Che hype ragazzi, che hype! Allora vi ricordo prima di entrare nel vivo, di passare nel link in descrizione che trovate appunto qua sotto al video e di entrare nel gruppo Telegram, perché da lì vi arrivano tutte le notifiche e tutte le anticipazioni sui miei investimenti, sui miei video che carico, sulle serie in arrivo sul canale, eccetera, eccetera, eccetera. Mi raccomando è di fondamentale importanza anche perché altrimenti non posso fare sempre dei post su YouTube o su Instagram per avvertirvi su quello che dovete fare, come muovervi, eccetera, eccetera. Allora, vi ricordo una piccola cosa, nel primo episodio della scorsa settimana vi avevo detto che la mia prediction sugli incontri principali con i consigli sugli investimenti sarebbero usciti ogni domenica in mattinata. Ho deciso di anticipare perché la domenica ho notato che le carte degli incontri principali vanno già in hype, quindi ogni venerdì, ufficialmente, ogni venerdì anticipiamo di due giorni, ci saranno queste tipologie di video, quindi leak, prediction, incontri principali e consigli sugli investimenti ogni venerdì in mattinata, ok? Quindi potete muovervi molto molto più tranquillamente. Ora, vi dico le squadre su cui punterei. Siccome non è una giornata quella che arriverà di campionato delle varie leghe molto interessante perché non ci sono tantissime belle partite, degli scontri diretti, eccetera, eccetera, ci sono un po' di squadre su cui noi dobbiamo puntare e vendere in hype, ovvero adesso vi dico le squadre, voi comprate i giocatori, adesso vi farò anche un esempio, comprate i giocatori e li vendete da subito ragazzi, non dovete tenerli perché non c'è sicurezza sulle squadre che usciranno giovedì alle 19. Voi comprate i giocatori, li vendete subito minimo al doppio e poi non vi preoccupate se alcuni non li vendete, è normale, voi dovete venderli entro mercoledì alle 18, scusate, giovedì alle 18. Non andate oltre, vendete in hype, minimo al doppio. Più ci avviciniamo a giovedì con i giorni, più ogni ora venderete più carte, ok? Quindi se andate ad acquistare delle carte a 300, vendete subito, prezzo minimo 600, prezzo compra ora 650. Se le prendete invece a 350, le vendete prezzo minimo 700, prezzo compra ora 750, ok? Spero sia chiaro per tutti. Mi raccomando, io so, ormai siamo diventati tanti, quindi cerco di aiutare il più possibile ragazzi, perdonatemi se a qualcuno ancora non ho risposto, siete veramente tantissimi, mi dispiace tantissimo. Io ce la sto mettendo tutta, ve lo assicuro. Comunque si è creato un bel gruppo, ho visto che vi state aiutando anche a vicenda, quindi sono tanto contento. Parliamo delle partite. Focalizzatevi su Bundesliga, quindi Leverkusen, Eintracht, Francoforte. Poi c'è un'altra partita di Bundesliga molto interessante che è Dortmund-Lipsia, abbastanza, abbastanza interessante. Sono due partite di Bundesliga ragazzi, quindi anche qui abbiamo doppia occasione per prendere, ma anche doppia occasione per fallire miseramente aspettando giovedì dopo le 19. Io vi consiglio di vendere in hype e stare tranquilli e sicuri, perché nel caso in cui queste squadre non dovessero uscire giovedì all'uscita degli incontri principali, quindi dopo le 19, noi rischiamo di dover scartare queste carte. Sono prese a scarto, va bene, quindi non succede nulla, però comunque a me roterebbe, perché avreste perso l'opportunità di fare comunque un raddoppio assicurato. Mettete caso, voi prendete 150 carte, 100 le vendete in hype e poi decidete di fare una scommessa sull'uscita degli incontri principali e tenervi 50 carte. Alla fine nessuna di queste due partite uscirà dopo le 19 e voi quelle 50 carte siete costretti a svenderle, quindi a metterle a 400, a 450 e magari neanche ve le comprano subito. Quindi, occhio, rifletteteci su questa cosa. Se pensate che una di queste due partite possa uscire al 100%, fate la vostra scommessa, ma io vi consiglio di no. Poi, vi ho già detto Dortmund-Lipsia, poi ci sarà forse per me anche Atletico Bilbao-Viglia Real, oppure potrebbe uscire una partita della Ligan, ovvero Lille-Lione. Ora che vi ho detto le partite su cui dovete puntare, lo so, non sono delle squadre precise, giuste, non è una prediction esatta, è vero, ma a noi non interessa. Ho fatto una premessa all'inizio, noi dobbiamo vendere in hype, non ce ne frega niente di essere sicuri su quale squadra dovrà uscire. A noi basta che ci sia un po' di hype su quelle partite e non ci interessa nulla. Dobbiamo vendere prima, raddoppiare, quasi triplicare. Ce la faremo ragazzi, non vi preoccupate, al 100%. Allora, vi faccio vedere un piccolo esempio. Abbiamo parlato prima di Lione e Lille e vediamo un po' se c'è qualche oro comune francese del Lione. Perché vi dico di prenderli francesi gli oro comuni del Lione? Perché abbiamo doppia possibilità. La sfida potrebbe richiedere giocatori specifici di Lione e Lille, oppure giocatori specifici della Ligan e francesi. Abbiamo la doppia possibilità. Nel caso in cui non richiedesse giocatori specifici, almeno avremmo beccato la richiesta di giocatori francesi che giocano in Ligan. E sarebbe ottimo. E vedete, ce ne sono tanti, ok? Voi li prendete a massimo 350 e fate tutte offerte. Fate offerte per lui, per lui, per lui, per lui, per lui. Ovviamente quelli a 350 li lasciate perdere, eh? Questo qua ha già un'offerta a 350, quindi non alzate. Vi spostate, prendete lui, prendete lui, prendete lui, prendete tutti. Tutti quelli che riuscite a prendere. E non fermatevi solo su Lione, cambiate spesso, ok? Poi magari vi spostate da Lione, andate sul... Dove sta? Dove sta? Sul Lille. Eccole qua. E li prendete. Questi qua si prendono anche a 300 probabilmente, eh? E ci provate. Li andate a prendere, ok? E poi li vendete subito. Li mettete subito in lista a vendere. Poi, un altro esempio, per farvi vedere, andate su Germania, campionato, Bundesliga, e fate la stessa cosa. Come vedete, Germania, Bundesliga. Ho cambiato campionato, ho cambiato regione. È il concetto che deve entrarvi in testa. Lo stesso filtro lo sto adattando a questa... Eh... A questa partita, che secondo me potrebbe uscire. Quindi andiamo a vedere che ne so... Eh... Eintracht. Vediamo se c'è qualcuno. Eccoli qua. E andate a prendere anche loro, ragazzi. Ce ne sono ben due di carte oro comuni tedesche dell'Aintracht, ok? Nel caso in cui voi... Comunque, spero voi abbiate capito. Dovete fare la stessa cosa, ovviamente, anche con l'altra partita che deve uscire. Adesso... Ah, la Spagna. Andate su Liga Santander. E cercate... Che ne so... Vediamo l'Atletico Bilbao. Dov'è? Dov'è? Dov'è l'Atletico Bilbao? Scusi! Eccolo. E cercate così. Chiaro, no? A 300. Si prendono anche a 300. Molto facilmente. Adesso io non posso fare un'offerta perché ho il mercato soft bannato, ragazzi. Perché ho fatto tantissime offerte. E... I Esports se ne accorta. Adesso devo aspettare qualche ora per... Prima di farne altre. Però... Tanta roba, tanta roba. Questi si prendono molto facilmente, eh. Molto facilmente. E potete rivenderli. Io vi assicuro che già da domenica potrebbero entrare in hype. Già da domenica. Purtroppo questa settimana, vi ripeto, con le partite delle varie leghe, non c'è una partita che dite, oh cavolo, uscirà sicuramente al 100%. Quindi, occhio, io vi consiglio di vendere in hype. Quindi, queste sono le mie prediction e i miei consigli. Vendete in hype. Questa settimana non rischiate. Non rischiate. Ovviamente, quello che vi consiglio è di vendere subito. Subito, subito, subito. Per un'ora. Non mettete le aste da più ore. Non ha senso. Mettete le aste da un'ora al doppio minimo. Ok? E niente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi aspetto su Telegram e niente, vi ringrazio. Ciao a tutti.